Oltre 600 stecche di sigarette sequestrate dal valore complessivo di circa 18.000 euro, tre persone arrestate. È il risultato di un'operazione dei carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Teramo diretto dal colonnello Pier Vittorio Romano. Quest'operazione è nata da un controllo del territorio su Silvi Marina, dove noi abbiamo costantemente, specialmente nel periodo invernale, delle indagini soprattutto contro gli stupefacenti. Noi avevamo notizia che c'erano delle persone lituani che stavano sul territorio per, secondo noi, vendere della droga. Con un apposito servizio che è stato fatto in questi giorni, già l'avevamo sotto controllo da un po', invece poi abbiamo visto che si trattava di contrabbando di sigarette. Tre soggetti e sono tutti e tre lituani. Un soggetto già da tempo domiciliava a Silvi in un residence della Piomba e il giorno in cui siamo intervenuti un connazionale con un camper ha portato delle casse di sigarette. Da lì siamo partiti con le varie perquisizioni, prima sul camper e successivamente anche nella stanza del residence che aveva affittato lì alla Piomba. E lì abbiamo trovato altre stecche. Quindi riteniamo comunque che questo traffico già possa essere in auge da qualche tempo. I tre arrestati erano già conosciuti alle forze dell'ordine? Erano pregiudicati ma non conosciuti da noi. Probabilmente non possono essere dei reati in altri luoghi. Avevano un lavoro regolare? No, no, no. Non avevano un lavoro regolare. Disoccupati. Secondo quanto indicato dai militari, le sigarette erano destinate al mercato nero, destinate quindi agli esercizi pubblici presenti sul litorale Terramano e Pescarese.